Rallentare le immagini è un effetto efficace se si vuole dare enfasi a un'azione. È semplicissimo, lo si fa con un telefonino o con una levetta in un qualsiasi programma di post-produzione. Che occorrono alcuni rudimenti teorici e tecnici affinché l'effetto riesca bene. Ti avverto che ci saranno alcuni concetti complessi ma basilari per la registrazione di immagini in movimento. Ti assicuro però che alla fine di questa puntata saprai scegliere la tua attrezzatura con consapevolezza e saprai allestire le riprese in maniera efficace. Come si realizza lo slow motion? Basta un tasto sul telefonino, una levetta nel programma di montaggio ma l'effetto riesce bene solo se le immagini sono realizzate in condizioni ottimali e soprattutto si ha consapevolezza degli strumenti che si stanno utilizzando. Ci sono due modi per creare l'effetto slow motion. Il primo, quello classico e ottimale, è quello di aumentare la frequenza di frame per secondo in fase di ripresa. Il secondo è quello di lavorare in post-produzione per interpolazione. Vado con ordine. L'illusione del movimento. Cinema, televisione e video, anche digitale, ricrea l'illusione del movimento. Sorvolo sulla storia e sulle teorie della fisica. Questo succede perché l'occhio umano, quando vede scorrere delle immagini velocemente, ricrea il movimento. Questo fenomeno si chiama persistenza retinica. Quante immagini a secondo servono perché l'occhio umano ricrei un movimento fluido? È stato il cinema sonoro, quello degli anni 30, quello classico, che ha introdotto uno standard. Questo era funzionale sia alle esigenze produttive di allora, sia ai limiti tecnologici che allora esistevano. 24 frame per second viene abbreviato con FPS. 24 FPS è uno standard assolutamente valido ancora ad oggi. È il punto di riferimento. Frame sta per fotogrammi. 24 è il numero di volte che i fotogrammi compaiono in un secondo. Se ti immagini la pellicola è molto più facile da visualizzare. La televisione ha fatto dei piccoli aggiustamenti dovute alle specificità tecniche del mezzo. Ma negli ultimissimi anni il digitale sta spingendo sempre oltre le possibilità di ripresa e di visione. Torno quindi allo slow motion. Se hai la possibilità di girare un video a 120 FPS è in assoluto il modo migliore per realizzare uno slow motion. Questo ti permetterà innanzitutto di mostrare dettagli che sono assolutamente impercettibili all'occhio umano. Inoltre girare a 120 FPS ti permette di rallentare il tuo video fino al 20% senza praticamente avere una perdita di qualità dell'immagine. L'unica cosa a cui devi fare attenzione è che questo video sarà molto ingombrante. Quindi occuperà spazio nel tuo hard disk sulla fotocamera videocamera. Sarà più lento degli altri quando andrai a post produrre il video con il tuo computer. Le action cam hanno fatto sicuramente da prepista su questa funzionalità. Anche le macchine fotografiche mirrorless e compatte hanno aumentato la frequenza di fotogrammi a secondo e quelle prodotte negli ultimi anni sono in grado di registrare ai 60 fotogrammi a secondo. Negli ultimi due anni anche i cellulari di qualità elevata sono in grado di registrare a 120 FPS. Il mio consiglio però è quello di non utilizzare l'applicazione nativa in quanto imposta tutti i parametri automaticamente quindi non si ha né un controllo né una comprensione di come vengono registrate queste immagini. L'altro modo di creare lo slow motion è quello di lavorare per interpolazione. L'interpolazione è un processo in post produzione che va a creare altri frame per riempire lo spazio tra un fotogramma e l'altro quando si va a dilatare il tempo. I normali programmi di montaggio non lavorano per interpolazione. Per avere questi effetti è necessario lavorare con software molto evoluti. Il punto di riferimento in assoluto per questo settore è Twixtor che è un plugin costoso e professionale. Comunque l'interpolazione non permette di aggiungere dettagli che prima non esistevano. È semplicemente funzionale per eliminare alcuni disturbi percettivi che si possono creare. L'interpolazione viene utilizzata quando generalmente un regista vuole spingere lo slow motion oltre i limiti che gli sono imposti dall'attrezzatura che sta utilizzando in quel momento. Se sei ancora lì e mi stai ascoltando complimenti perché la puntata di oggi era veramente complessa e concettuale. Adesso però arrivo ad alcuni semplicissimi e pratici consigli che puoi utilizzare. Primo, evita lo slow motion digitale. Utilizza programmi di post produzione come per esempio Filmora solo quando hai avuto la possibilità di registrare il tuo filmato almeno a 60 fotogrammi al secondo. Secondo, prendi in considerazione il tuo smartphone per realizzare lo slow motion. Se hai infatti una bellissima macchina fotografica digitale che ha almeno 5 anni con ottiche perfette e un telefonino acquistato lo scorso anno di ottimo livello, prendilo in considerazione perché probabilmente potrà girare dei video a un frame rate più elevato. Terzo, scegli un luogo ben illuminato. Quando infatti vai a aumentare la velocità di frame per secondo, parallelamente dovrai aumentare la velocità dell'otturatore che dovrà essere la metà del frame rate. Se infatti vai a lavorare con un frame rate di 60 fps, la tua velocità dell'otturatore dovrà essere di un centoventesimo. Il mio preferito, utilizza un treppiedi. Calcola che se tu rallenti un'inquadratura del 50%, mediamente ogni tentennamento di camera si vedrà almeno il doppio. Quindi il treppiedi è sempre utile e in assoluto credo sia uno degli accessori più sottovalutati del video. Siamo alla fine di questo puntatone. Commenti, suggerimenti, domande sono sempre ben accetti. Quindi scrivili. Qua di fianco puoi scaricare la guida Crea il tuo set tv. Non si parla di slow motion ma di illuminazione artificiale sì e quindi ti può tornare utile. In ogni caso riceverai anche la mia newsletter mensile. Ti saluto per il momento e alla prossima.